Mi nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle approfondità della terra. Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri! Quanto grande il loro numero, Dio! Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. Ecco, allora, diamo l'inizio al nostro secondo appuntamento, ricordando un attimo quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ecco, abbiamo detto che questo corso di formazione permanente per catechisti non è un corso metodologico, in quanto non approfondiremo come si fa la catechesi, ma approfondiremo un tema, che è appunto il tema del kerigma, come vedremo adesso scritto nella slide, che è un tema che ci sembra fondamentale dal punto di vista della formazione dei catechisti. Non lo vogliamo approfondire in maniera intellettuale, ma anzi renderla quanto più possibile anche esistenziale, in modo che quello che è il centro della nostra fede, quello che è il centro del nostro annunzio, diventa prima esistenza, vita che batte nella vita dei catechisti, per poi poter essere annunciato. E quindi, come dicevamo, parleremo del kerigma, il kerigma ripreso da quella che è la chiave di lettura che Papa Francesco ne ha dato anche nell'Evangelii Gaudium. E questo corso si struttura in sette appuntamenti. Il primo è stata un'introduzione generale al kerigma. E adesso i prossimi tre incontri approfondiremo con Don Davide, a cui ridiamo ancora il benvenuto, grazie di essere stato con noi, il tema del kerigma trinitario. Ecco, Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, dice chiaramente che il kerigma, il nostro annuncio, il primo annuncio, quello fondamentale, quello al quale dobbiamo ritornare sempre, è appunto trinitario. Trinitario nel senso che, ecco, non può esserci annuncio se noi non annunziamo che Dio è Padre, non annunziamo che Gesù è il Signore, non annunziamo che il dono dello Spirito Santo che viene effuso nelle nostre vite e quello che ci comprende, ci fa comprendere, ecco, chi è Gesù che salva, ci fa entrare nel mistero di Gesù che è morto e risorto per noi e in questo mistero lui ci rivela il grande amore che è il Padre per noi, ci rivela la paternità di Dio. E allora nei prossimi tre appuntamenti con Don Davide, ecco, faccio una piccola presentazione, che è parroco della parrocchia Santa Giovanna Antida qui a Roma e docente incaricato all'Istituto di Scienze Religiose Ecclesia Mater di Dogmatica 3, Antropologia Teologica e Descatologica. Ecco, a lui abbiamo chiesto di poter affrontare in queste serate appunto il mistero della Trinità E' come il Kergu annuncia, ripeto, la paternità di Dio, Gesù che salva e il dono dello Spirito Santo. Questa sera con lui affronteremo la paternità Dio Padre. Do la parola a Don Davide. Grazie mille, su Rosaria, Teresa e grazie Andrea per avermi chiamato, grazie a tutti voi di esservi legati questa sera. Ecco, è un grande, un po' spaventato ecco, di dover parlare di così grande tema, no? Del, quello che è il cuore dell'annuncio della nostra fede, del mistero di Dio, in questi tre incontri. Ecco, allora, per riscaldare un po' i motori, ecco, vorrei ricollegarmi all'incontro introduttivo della settimana scorsa per focalizzare una questione, no? Diceva in questo testo che un po' c'è stato presentato come testo guida dell'attuale corso Evangelii Gaudium 164 il Papa dice che si è riscoperto il ruolo del Kerigma, di questo annuncio centrale che chiama primo annuncio, non in senso temporale, ma qualitativo, principale annuncio che deve sempre animare tutta la catechesi, in tutte le sue forme. La domanda preliminare che vorrei affrontare è perché è così importante il Kerigma? Allora, se riprendiamo in sintesi l'incontro della volta scorsa, Don Andrea ci ha presentato come centro del Kerigma, ecco, la storia di salvezza, ciò che Dio ha compiuto in Cristo. È una storia che inizia nei benevoli disegni di Dio, che crea l'uomo per inserirlo nel mistero della Santissima Trinità. In particolare, non so se si vede il mio puntatore, lo schermo? Non so se si vede. Sì, sì, sì. In particolare, inserire l'uomo nel figlio, nella figliolanza, unirci al mistero del figlio. Ecco, questi disegni di Dio si scontrano con il peccato che crea una separazione, mentre l'uomo è stato creato verso, in uno stato che era di grazia, verso questo compimento che Dio aveva preparato, ecco, nei suoi disegni. Ecco, il peccato spezza la comunione tra Dio e l'uomo, spezza la comunione tra noi e la sua tragicità per l'uomo è sperimentata nella morte. Ecco, come sintesi esistenziale di tutto quello che infrange la nostra vita, le nostre ispirazioni. E Don Andrea poi ci ha spiegato, ecco, come la salvezza che Dio ci ha portato in Cristo supera questa separazione tra Dio e l'uomo tramite l'incardazione del figlio eterno del Padre che prende la nostra natura, colui che è Dio assume la natura umana. Nel battesimo viene unto di Spirito Santo questa freccia arancione che unge anche l'umanità assunta, viene unta, consacrata, riempita della potenza dello Spirito e il figlio incarnato, unto dallo Spirito, Cristo di Dio, entra nella morte, cioè nella situazione esistenziale in cui l'uomo si trovava, portandovi, ecco, la divinità e la vittoria dell'amore di Dio sulla morte, con la sua risurrezione e ascensione al cielo, ecco, compie in se stesso, nell'umanità da lui assunta, questi disegni eterni di Dio con cui ha creato l'universo e l'uomo, in vista di questa figliolanza dell'uomo. E Don Andrea ci ha spiegato, ecco, come poi ciò che si è compiuto in Cristo, come seconda fase, ecco, della storia di salvezza, raggiunge gli uomini, ecco, e tramite il dono dello Spirito Santo, frutto della pascola di Cristo, che ci unisce a Gesù, ecco, e ci configura al figlio, ci unisce realmente al figlio, come le membra al capo. Ora, il punto qui che vorrei fare è che questa storia di salvezza che ci è stata presentata è estremamente concreta. Cioè, Dio ci ha salvato nella realtà, nella storia, nella storia di salvezza che ha come centro e cardine, come cuore pulsante, la storia di Gesù, ecco, l'economia di Cristo, si dice, ecco, tutto dall'incarnazione, tutti i misteri della vita di Cristo fino al mistero pasquale, l'ascensione al cielo, e il dono dello Spirito, una cosa molto concreta, concreta quanto la carne di Cristo e quanto la nostra carne che viene raggiunta concretamente dalla salvezza. Questo avviene in modo principale e fondante attraverso l'economia sacramentale, ecco, i sacramenti che noi riceviamo. Sono cose concrete. C'è un bellissimo testo di Tertulliano nell'opera De Carnis Resurrectione, dice, c'è questa famosissima frase, no, che la carne è il cardine della salvezza. Questa frase fa parte di un ragionamento fondamentalmente sacramentale. Dice così, a tal punto la carne è il cardine della salvezza che quando per mezzo della salvezza l'anima è legata a Dio, è proprio la carne a far sì che l'anima possa essere scelta da Dio. È la carne che viene lavata perché si purifichi l'anima. La carne viene unta perché l'anima sia consacrata, quindi il battesimo, la cresima. È la carne che si ciba del corpo e sangue di Cristo perché anche l'anima possa essere nutrita di Dio. Ecco, quindi una grande concretezza della salvezza operata da Dio. Eppure questa opera di salvezza che è tanto concreta da essere materiale, incardinata nella carne di Cristo e la nostra, non è meccanica, non è automatica, non è un meccanismo che va avanti da sé. richiede l'accoglienza libera dell'uomo. Ed è in questa giuntura, ecco, che appare l'importanza fondamentale del kerigma accolto nella fede. Ecco, la necessità della fede, perché, ecco, vedete, Cristo ci ha salvati, veramente ha salvato già in sé stesso tutta l'umanità è salva, la salvezza è aperta a tutta l'umanità, ma va accolta liberamente. Per cui, data la salvezza operata da Cristo, ecco, la sorte di ogni uomo, la nostra sorte eterna, è determinata dalla libera accoglienza di questa salvezza o dal suo rifiuto. Ecco, e questo, questo, la necessità della libertà, non è un capriccio di Dio. Non so se vi siete mai, ecco, fatti la domanda, ma perché Dio non poteva salvarci e basta, no? Che eravamo tutti direttamente salvi, senza altri rischi, no? Perché non ci creava tutti direttamente in paradiso? Buona domanda, no? Ecco, chiaramente la risposta sarebbe più articolata, sarebbe più lunga. Però, non è un capriccio, ma è un'esigenza intrinseca allo stesso dono, che è la partecipazione alla sua vita, una vita di amore, che quindi non può essere imposta, ma che richiede la libertà. La libertà è legata all'amore. Ecco, per questo, la salvezza che Cristo ha operato va accolta liberamente. L'annuncio del Kerigma crea lo spazio dell'accoglienza di questa salvezza universale per ogni uomo. Ecco, accogliere l'annuncio della fede è il nostro venire a contatto con la nostra libertà, con la salvezza che ci viene offerta in Cristo. Quando crediamo, ecco, questa salvezza opera in noi, no? Riceviamo lo Spirito Santo credendo al Kerigma. Riceviamo la salvezza. Dice San Paolo, Dio ha voluto salvare il mondo, è piaciuto a Dio salvare i credenti, coloro che credono, con la stoltezza della predicazione. Questo legame tra il Kerigma, questa predicazione di cui parla San Paolo nella prima lettera di Corinzi è proprio il Kerigma, e la fede che l'accoglie. Quando accogliamo la salvezza, ecco, questo cambia tutta la realtà, incide, ci fa passare da questa situazione la seconda scena, diciamo, di questo processo qui raffigurato, questa scena che è segnata dalla separazione tra Dio e l'uomo e quindi dalla morte dell'uomo, ci fa passare da questa situazione all'ultima scena, in cui noi viviamo nello Spirito, la vita cristiana, la vita di Cristo, in Cristo. E poi descriveremo, lungo i prossimi incontri, questo cambiamento che viene accogliendo il Kerigma nella fede. ma questa fede è sempre collegata in tutt'uno con la concretezza dei sacramenti. Ecco, sono, le due cose sono strettamente congiunte, questo si vede molto chiaramente nel sacramento del battesimo che è sacramento della fede. Ecco, quando noi veniamo battezzati nel nome del Padre, del Fio e dello Spirito Santo siamo battezzati nella fede, ancora questo si trova nel rito del battesimo. Volete dunque che il vostro bambino si è battezzato nella fede della Chiesa che abbiamo ora professato. Ecco, è il segno concreto, nel corporeo visibile con cui si entra in contatto visibile mediante la fede, nella libertà, con la salvezza, l'amore, la vita di amore che Dio ci offre. Molto bello, non so se conoscete, c'è un testo del secondo quarto secolo, tradizione apostolica che era attribuita ad Ippolito di Roma che racconta proprio la prassi liturgica qui in città e quando parla del battesimo dice che si scendeva nel fiume, un diacono scendeva con il battezzando spoglio, nudo, e gli chiedeva credi in Dio Padre Onipotente, creatore del cielo e della terra, credi in Dio Padre Onipotente, colui che viene battezzato risponda credo, lo battezzi, cioè lo immerga una prima volta tenendogli la mano sul capo, narra la tradizione apostolica. Poi chieda, credi in Gesù Cristo, figlio di Dio che è nato per mezzo dello Spirito Santo, la Vergine Maria è stato crucifisso sotto Ponzio Pilato, morto e risorto il terzo giorno di Dio, sia della destra del Padre verrà a giudicare i vivi e morti, quando colui che avrà, che è battezzato avrà risposto credo, lo batteggi, lo immerga una seconda volta. Allora chieda, credi nello Spirito Santo, la Santa Chiesa della risurrezione della carne, il battezzato risponda, credo, così si è battezzato la terza volta. Questo rito mostrava fisicamente che si veniva immersi, battezzati, nella fede professata. La congiunzione tra questa concretezza della salvezza operata in noi che ci raggiunge tramite la storia di Cristo, la nostra storia, la mediazione ecclesiale ecclesiale e la fede, la dimensione della fede per la risposta necessariamente libera alla vita di amore che si viene, che viene accolta. Una piccola parentesi che può essere, ecco, bella per voi catechisti su questo Kerigma che è la proclamazione. Nel mondo ellenistico era particolarmente importante l'annunciatore Kerix, ecco, era in greco, era una figura che aveva un ruolo importante nella corte, portava addirittura uno scettro, era onorato, ben retribuito, godeva di una certa inviolabilità a causa delle sue missioni diplomatiche, no? Per esempio, quando andava a fare, era intermediario per una, tra il re e una potenza nemica, ecco, gli emissari, questi araldi, erano inviolabili perché dovevano tenere la comunicazione, ecco, e questa inviolabilità legata al loro ruolo politico poi assume anche connotazioni religiose, ecco, sono, e si inizia a vedere questo annuncio come un annuncio che ha connotati i divini, le divinità stesse hanno i loro annunciatori, i loro araldi, esempio, lo stoicismo, gli stoici, i filosofi stoici, si ritenevano in qualche modo anche messaggeri delle divinità nel loro richiamare la moralità. Ecco, questa figura che era così importante poteva prestarsi, ecco, a, bene, a la figura dell'annunciatore del Vangelo. pure curiosamente nel Nuovo Testamento ci sono poche ricorrenze di questo sostantivo dell'annunciatore a favore del messaggio. Ecco, perché ciò che è fondamentale non è l'annunciatore che potrebbe essere chiunque, ma il messaggio. È il messaggio che ha un'efficacia, una potenza indipendentemente dall'annunciatore che pur è onorato in forza di questa funzione. Sulla potenza del messaggio oggi con la situazione del Covid lo capiamo bene, potremmo fare l'esempio. Immaginiamo che uno annunciasse che si è finalmente trovata, no? Si è trovato l'antidoto non solo al Covid ma a tutti i virus. Si è trovata la chiave per risolvere tutti i virus. Per cui questa pandemia e le successive chiaramente non basterebbe che questo un messaggero qualsiasi. Sarebbe fake news. Avremo tutti i dubbi e ragioni da averli. Ma se ci fosse un araldo autorevole per dare questo annuncio, l'annuncio cambierebbe la situazione di tutti. anche se anche se ancora continuasse il Covid per un po', sapremmo che è superata la crisi in maniera definitiva. Ecco, l'annuncio del Vangelo è un poco su questa linea ma ben più grande. Si annuncia che la morte, questo dramma universale che ad ombra tutto è vinta in Cristo. Ecco, questo è un annuncio che se se l'annunciatore è credibile cambia tutto. Ecco, e allo stesso tempo l'annunciatore non è importante. Ecco, è il messaggio che conta. Quindi, perché questo è bello per i catechisti, Ci aiuta a essere grati, no? Di così grande ministero, veramente immenso ministero che ha affidato questo dell'annuncio del Vangelo. Ma un ministero che allo stesso tempo ci umilia, ci fa piccoli, ecco, di fronte alla maestà di colui che annunciamo, la grandezza del messaggio. Noi siamo veramente di poverissimi, servi inutili, e allo stesso, pur essendo, ecco, chiamati privilegio immenso, no? Adesso di portare la salvezza di Cristo. Allora, dopo questa introduzione, ecco, sul, sull'importanza del Kerikman, ecco, che non finisce nel battesimo, ma con tutta la vita cristiana sarà ancora accompagnata dall'annuncio di Cristo, l'annuncio del Vangelo che ascoltiamo in tutta la vita cristiana e che accogliamo per essere sempre più uniti a Gesù. Ecco, nella fede, l'annuncio accolto e concretamente nei sacramenti, la vita sacramentale, soprattutto l'eucaristia, quello che accompagna la vita cristiana, che nutre questa crescita, la parola accolta nella fede, l'annuncio, il Kerikman accolto nella fede e i sacramenti della vita cristiana. Ecco, fatto questa, fatta questa introduzione, cerchiamo di passare al tema di oggi che è il tema del Kerikman di Dio Padre. Ecco, questo testo guida ha al centro una descrizione del Kerikman in due piccoli capoversi. Nel primo capoverso dice il Papa il Kerikman è trinitario, abbiamo visto l'ordine inverso, lo spirito che fa credere in Cristo, ecco che comunica la misericordia del Padre. Le tre persone della Santissima Trinità in questo Kerikman trinitario. Nel seguente capoverso quando va a esplicitare questo annuncio kerigmatico, questo primo annuncio, il Papa ha una formulazione strettamente cristologica. Cristo Gesù ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, rafforzarti, per liberarti. Come la mettiamo? Fa venire un poco in mente, noi battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, sul mandato di Gesù, ecco, nelle parole del, prima di salire al cielo, il Vangelo di Matteo capitolo 28, vi è questo mandato agli apostoli di annunciare il Vangelo e battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ma se andiamo a vedere gli atti degli apostoli, mai compare il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. sempre il battesimo è nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Signore e Gesù. Ecco, come la mettiamo? Allora, in realtà, ecco, Gesù, ecco, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, come si è fatto fin dalle origini, battezzati nel nome di Gesù, non è altro battesimo del battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché in Cristo, in questo annuncio, il kerigma di Gesù Cristo è il kerigma della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che in Gesù Cristo, ecco, la realtà, l'esistenza di Cristo è trinitaria, già in sé stessa. Ecco, oggi allora vorremmo focalizzarci su questo passaggio, no? Perché il kerigma è centrato in Cristo, no? Il battesimo nel nome di Gesù Cristo, perché effettivamente nei disegni di Dio Gesù Cristo, il Figlio, ha un ruolo centrale, perché la nostra chiamata è l'inserimento nella vita del Figlio. Ecco, diventare figli nel Figlio. Per quello lui ha un ruolo cruciale, proprio nel, in tutta, ed eppure, eppure è trinitario, radicalmente trinitario, da, integralmente. Non c'è mai un momento in cui la fede in Cristo non è fede nella Trinità e che l'annuncio di Cristo non sia annuncio della Trinità. Ecco, per fare questo passaggio, ecco, ci rendiamo conto come ruolo di Cristo, compito di Cristo è rivelare il Padre. Testi sarebbero tantissimi, un'infinità. Qui ne menziono due, Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre è Lui che lo ha rivelato. Quella fine del prologo di Giovanni e sempre in Giovanni che è il Vangelo che più ci presenta questo rapporto, questa intimità tra il Figlio e il Padre, Gesù dice a Filippo, dice, mostraci il Padre e ci basta, chiedeva Filippo e Gesù risponde Filippo, da tanto tempo mi conosci, ancora non mi conosci, sei con me, chi ha visto me ha visto il Padre. Cristo è la visibilità del Padre, dice Sant'Ireneo. Ecco, allora Cristo porta il Padre, rivela il Padre. leggiamo ora adesso un testo che ci darà un poco la guida, la macrostrutturazione di questo approfondimento del Kerigma di Dio Padre. Se qualcuno lo può leggere, Teresa, o... in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Ok. Questo testo, Gaudium et Spes 22, l'apertura di questo paragrafo, è un po' l'esplosione teologica di questa Costituzione del Concilio Vaticano II e inizia ecco già ponendo i disegni di Dio, Adamo figura di colui che doveva venire, dell'uomo futuro, Romani 5,14, quindi Dio crea l'uomo in vista di Cristo e poi dice, parla di cosa fa Cristo quando arriva il nuovo Adamo, l'ultimo Adamo, fa due opere congiunte, rivela il mistero del Padre e del suo amore. Quindi qui la prima parte che vorremmo presentare è quella la piena rivelazione del Padre che avviene in Gesù Cristo e la seconda parte che rivelando il Padre svela anche l'uomo, pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. La congiunzione della rivelazione del mistero del Padre e della rivelazione dell'uomo a se stesso e della sua vocazione pone da rilevanza al Padre per l'uomo. Scoprire il Padre è scoprire se stessi la nostra vocazione che dà senso alla nostra vita. Ed ecco qui un po' la chiave di lettura del Kerigma del Padre, la buona notizia del Padre che cambia la la situazione dell'uomo. un annuncio che ci pone in una realtà salva e la salvezza. Ecco, pian piano allora affrontiamo l'incontro si svolgerà avremo un po' di slide con intestazione verde sul mistero della rivelazione del Padre e con intestazione arancione come il Padre è Kerigma per l'uomo. la rivelazione del Padre ecco, quando riflettiamo su Gesù Cristo che rivela il Padre non possiamo estrapolarlo dal contesto in cui questo avviene. Gesù entra nella storia viene mandato nella pienezza dei tempi e questa storia ha tutto peso ha una grande importanza. La rivelazione di Gesù Cristo si innesta porta a compimento a quella che è in primo luogo l'esperienza naturale del mondo di tutti gli uomini e in secondo luogo seconda tappa l'esperienza della storia di salvezza che Dio ha operato nell'Antico Testamento chiamando Abramo ecco, costituendo un popolo in vista di Gesù Cristo. allora vogliamo iniziare a riflettere sulla rivelazione del Padre da questa esperienza naturale del mondo. Il nome Padre la parola Padre noi la abbiamo a partire dalla nostra natura la nostra concretezza siamo tutti figli abbiamo nasciamo come figli e alcuni sono padri in questo questa realtà della paternità e figliolanza umana e la nostra esperienza umana la cosa più miracolosa più sorprendente è la generazione cioè l'apparire di una nuova vita quando uno vede un bambino quando ti prendi questo bambino un batuffolo un piccoletto questo pargoletto appena nato lo guardi è un miracolo cioè una cosa ma come è possibile che si assorta una nuova vita questa novità e con la procreazione proprio ci rimanda all'opera crea alla creazione alla capacità di generare di creare qualcosa di nuovo noi sperimentiamo questo miracolo proprio nel concretamente nel generare figli tra gli uomini i figli dei uomini dei uomini ecco questo miracolo umano comunissimo vicinissimo a noi in cui tutti siamo coinvolti ecco diventa paradigmatico per pensare quel miracolo che è l'esistenza generale perché esistiamo perché c'è il mondo come come avviene che esiste ci siamo questa natura ma guarda che meraviglia allora il paradigma di questo è la generazione umana e per questo conviene spontaneo per gli uomini nella storia delle religioni l'attribuire alle divinità questa funzione paterna come paradigma della generazione del dare vita del dare origine a qualcosa di nuovo all'esistenza come il padre dà origine all'uomo ecco così la divinità dà origine alle cose che sono quindi questa è un po' la prima fondante esperienza ma poi questa esperienza della paternità è anche molto più ricca se noi ecco cerchiamo di tornare con la mente quando eravamo bambini eravamo piccolini piccolini quando uno è piccolo il papà è grande la grandezza è una cosa molto concreta è il paragone con il padre è a grande grande io ho il papà che è altissimo è alto uno si sente piccolo piccolo invece di papà papà il padre è la forza questa è un'esperienza proprio concreta quando a casa c'è una cosa di pesante è il padre che viene con la mascolinità la forza maschile che spostano risolva risolve un problema ecco protegge difende è una voce autorevole il padre questa è un'esperienza profondissima che si plasma in noi negli anni più teneri più preziosi fecondi della nostra persona per questo alla paternità viene associata anche la grandezza la forza e così quando l'uomo si pone di fronte al mondo le potenze del mondo le forze del mondo la volta celeste che ci sovrasta che dove ti muovi puoi andare dove vuoi il cielo ti sovrasta ti abbracciano e questo viene collegato alla alla presenza del padre le potenze della natura la forza delle onde del mare vengono collegate alla paternità ecco qui l'attributo di fronte alla natura ecco la potenza di Dio di ogni potente legato a i tratti della paternità di cui naturalmente gli uomini fanno esperienza fondante da bambini piccolissimi e quando siamo piccoli piccoli ecco quindi vediamo in questo modo arriva la paternità è una caratteristica attribuita a Dio per la creazione e per questo aspetto le potenze della natura su questo avviene un'altra esperienza che è l'esperienza del popolo di Israele a questa universale esperienza della paternità si aggiunge l'esperienza vissuta dai figli di Abramo il popolo di Israele e se le altre religioni il rapporto con Dio è legato al mondo naturale con lo stupore dell'esistenza e l'esperienza terribile e tremenda della grandezza delle potenze per il popolo tutto questo che c'è passa in secondo piano rispetto a un'altra esperienza di Dio che si svolge su un altro registro il registro del rapporto personale con lui dove l'attributo principale non è tanto la potenza bensì la bontà di Dio la sua bontà il suo amore ecco in che cosa viene sperimentato questo dal popolo ecco nelle sue i suoi primi padri no i patriarchi l'elezione di Abramo la chiamata per amore viene eletto Abramo non c'è una ragione è chiamato per amore il vero motivo la promessa di bene fatta da Abramo e poi tutta l'esperienza fondante dell'esodo poco il cuore dell'esperienza del popolo da cui tutto il resto poi si matura prende forma ecco sperimentano che Dio dà ascolto al loro grido che li soccorre li libera come il padre no che un figlio sperimenta che il padre ti aiuta ti protegge ti libera da un nemico da un fratellino che ti fa un dispetto il padre ti difende ti separa che Dio che guida il popolo nel deserto che provvede nutre questo popolo ecco sono tutte esperienze di tipo paterna l'alleanza il patto questo dialogo che Dio inizia ad instaurare con il popolo gli parla lo ascolta di fronte ai tradimenti sperimenta il perdono di Dio la sua pazienza la fedeltà al suo patto un amore fedele un'esperienza che di nuovo anche paterna come il padre che pazienta con i figli che li perdona che è sempre padre rimane padre anche se i figli sono infedeli sperimentano la correzione di Dio l'educazione l'ammaestramento Dio educa il suo popolo lo ammaestra ecco lungo tutta la sua storia parlandogli quindi tutta una storia in cui Dio stabilisce stabilisce un rapporto personale speciale ecco con questo popolo mediato dalla parola è come una mediazione dei profeti di Mosè e di tutti tutte le figure che portano la parola di Dio mediatori di questa parola di Dio Dio instaura un dialogo con il popolo che considera suo figlio primogenito è il mio figlio prima di dire un'appartenenza singola del tutto particolare non so se frasi molto pregnanti in questo senso nell'Antico Testamento dove Dio dice io sarò il vostro popolo e voi sarete io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo quindi un'appartenenza particolare mia è tutta la terra ma io vi ho scelto per essere mia proprietà con un'eredità una proprietà particolare tra tutti i popoli dice al faraone per mezzo di Mosè tu hai impedito al mio figlio primogenito di andare sul monte a servirmi io ucciderò il tuo figlio primogenito durissimo ecco quando prima della decima piaga fa questo parallelo tra Israele e il primogenito dei giziani vediamo anche poi nel nel culto del popolo ci sarà un ruolo particolare dei figli primogeniti che sono consacrati al Signore immagine del popolo ecco di una figliolanza del tutto particolare che prepara la figliolanza per eccellenza del figlio unigenito ecco il popolo di Israele percepisce questo rapporto per cui quando loro parlano della paternità di Dio c'è molto di più di quell'esperienza universale di Dio creatore onnipotente dietro le potenze c'è quest'altra esperienza della sua bontà del suo amore la sua predilezione per il popolo leggo un brano giusto per la parola di Dio la cosa più bella quando il profeta Osea ricorda gli anni della fanciullezza del popolo di Israele che viene cresciuto da Dio quando Israele era un bimbo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio ma più li chiamavo più si allontanavano da me immolavano vittime agli idoli bruciavano incensi a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano ma essi non compresero che avevo cura di loro io li traevo con legami di bontà con vincoli d'amore ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia mi chinavo su di lui per dargli da mangiare ecco e così via poi continua questo ricordo della fanciullezza come a volte capita a noi di apprezzare i nostri genitori e gli anni della nostra gioventù quando diventiamo adulti quando diventiamo padri madri ci ricordiamo della nostra fanciullezza delle nostre ribellioni come abbiamo fatto soffrire ci rendiamo conto dopo della ribellione quando uno è bambino e fanciullo ecco questa paternità abbiamo detto nei confronti del popolo ma in questo popolo inizia anche a avere una direzione siccome è una protezione una protezione una cura ecco diventa si concretizza in modo particolare nei poveri ecco padre degli orfani difensore delle vedove cioè ci sono dei soggetti che sono che vivono la paternità di Dio con più vicinanza con l'orfano a Dio come padre nella profezia fatta a Davide viene una fiola viene annunciata una fiolanza del tutto particolare del re quindi di una figura a capo del popolo ecco dopo che Davide voleva costruire un tempio una casa a Dio e Dio gli rimanda il profeta Nathan questo profeta da parte di Dio gli dice io susciterò a te un discendente dopo di te io ti costruirò una casa uscito dalle tue viscere renderò stabile il suo regno e gli edificherà una casa al mio nome io renderò stabile il suo il trono del suo regno per sempre io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio ecco annunciata una figliolanza un rapporto di figliolanza e paternità tra la paternità di Dio e una figliolanza sulla terra che è concretizzata centrata in un in un singolo non solo non nel popolo ma in un singolo il re questa profezia verrà richiamata in modo molto esplicito nell'annunciazione di Gesù Cristo ecco la rivelazione in Cristo della figliolanza sarà quindi piena ed è ecco con questo sfondo che ora colgiamo la nostra attenzione alla pienezza della rivelazione di Dio Padre in Cristo e leggiamo ascoltiamo un brano del Catechismo della Chiesa Cattolica Gesù ha rivelato che Dio è Padre in un senso inaudito non lo è soltanto in quanto creatore egli eternamente Padre in relazione al figlio suo unigenito il quale non è eternamente figlio se non in relazione al suo padre allora qui ecco viene annunciato nel Catechismo della Chiesa Cattolica quando parla appunto della rivelazione del Padre questa rivelazione di un senso di paternità inaudito abbiamo spiegato questa crescita nella rivelazione della paternità di Dio qui arriviamo a una rivelazione insuperabile della paternità di Dio che Dio è Padre eternamente del figlio eternamente figlio in relazione al Padre dove vediamo questo nei Vangeli ecco lo vediamo fortemente nella relazione di Gesù che ha sempre sulle labbra ecco questo nome Padre Padre mio rivolto a Dio chiama Dio con questo nome questo fin da le primissime parole sulle labbra di Gesù ecco che troviamo nei Vangeli sono le parole con cui risponde a Maria a dodici anni nel Tempio di Gerusalemme perché mi cercavate non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio ecco lì le prime parole di Gesù il Padre mio ecco dice questa questo sintaggolo questa questa espressione che ritroveremo più di 40 volte nei Vangeli e così e tutta la sua vita tutta la sua missione il Vangelo di Giovanni apre la differenza dei Sinottici apre la missione di Gesù con la purificazione del Tempio dice dove di Gesù dice portate via queste cose non fate della casa del Padre mio un mercato ecco e tutta la sua vita è segnata da questa consapevolezza questo rapporto intimissimo col Padre alla Samaritana che gli chiede dove dobbiamo adorare intendendo adorare Dio e Gesù risponde parlando dell'adorazione del Padre annuncia sempre il Padre c'è il bellissimo brano dell'esultanza di Gesù ti rendo lode o Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti ai dotti le hai rivelate ai piccoli sia o Padre perché così hai deciso nella tua benevolenza tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il Padre né chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo è un testo di fortissimo peso trinitario questa esultanza nello Spirito Santo che è il rapporto tra il figlio e il Padre in cui Gesù proprio esplicita che nessuno può conoscere il Padre se non il figlio quindi il figlio se non il Padre e che il figlio ci può introdurre nella conoscenza del Padre in questo rapporto poi tutte le sue opere dice nel Vangelo di Giovanni manifestano che il Padre in me e io nel Padre tutto testimonia questo e fino al Gezzemani dove Gesù prega Abba Padre tu puoi tutto ecco se vuoi lontano da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà e le ultime parole di Gesù ecco Padre perdonali perché non sanno quello che fanno e infine Padre nelle tue mani consiglia nel mio spirito ecco tutta la vita di Gesù ci presenta questo rapporto singolare con il Padre distinto da tutti e che cosa emerge questo Padre mio che lui può chiamare mio possiamo dire in sintesi che da Gesù scopriamo che Padre è il nome proprio di Dio normalmente noi non lo consideriamo un nome proprio no? è un nome comune no? sei Padre no? è una delle tante cose che noi siamo no? siamo prima figli forse uno diventa Padre può diventare Padre tra le tante cose che è Padre per noi è un attributo l'essere Padre ma per Gesù nel rapporto che Gesù ha con il Padre appare che questo è il suo nome il nome proprio è Padre forte traccia forte traccia di questo si ha nel nel Vangelo secondo Marco dove la preghiera che Gesù fa nel Gezzemani ricorda l'espressione con cui Gesù si rivolgeva al Padre Abba ecco ricorda proprio l'aramaico poi San Paolo pure lo ricorderà dalla testimonianza di questa memoria apostolica di questa parola sulle labbra di Cristo chiama Papà ed ecco che di nuovo se pensiamo alla nostra infanzia pensiamo ai bambini per un bambino Papà non è un nome comune è il nome proprio papà è lui è il suo nome può essere che all'inizio il padre e il bambino non sappia il nome del padre se non Papà può capitare non è una famiglia se anche la moglie chiama Papà ecco il padre lo chiama Papà vai da Papà via Papà chiedi a Papà chiedi a tuo padre chiedi a Papà è il suo nome proprio Papà Abba Abba Padre mio si Abba è il nome proprio di Dio e cosa significa questo significa che la paternità non è un attributo di Dio è costitutiva di Dio Dio è costitutivamente padre è radicalmente padre ecco dirà San Tommaso che la paternità non è in Dio un accidente di una sostanza predistente ma che Dio padre è la sua paternità e la relazione della paternità sussiste in lui è costituito dalla relazione di paternità da questo generare eternamente il figlio il padre è questo è totalmente padre non so se si capisce questo ed è un po' difficile forse e questo è ecco il contenuto teologico diciamo una traduzione teologica di ciò che traspare nei Vangeli nella vita di Gesù che il padre padre è il nome proprio di Dio della prima persona della Santissima Eterità Hoseos è il padre quando uno legge Hoseos nel Dio il Dio Dio nel Nuovo Testamento è il padre padre è il suo nome e pensate che bello quando noi diciamo battezzando del nome del padre del figlio dello Spirito Santo nel nome che è il nome che è quel padre non è un nome generico non è un nome comune il nome proprio della prima persona della Santissima Eterità ecco Dio ci rivela questo senso inaudito dell'essere padre scusate non sono andato avanti con le slide lo recuperiamo dovevo mandare queste slide qui quindi la relazione personale del tutto singolare con colui che chiama padre mio in pieno abbandono e obbedienza ecco questi sono dei tratti tra i tratti dominanti ecco del suo vivere filiale del suo essere filiale e emerge che padre è nome proprio di Dio una paternità costitutiva della persona l'abbà ecco sulle labbra di Gesù di Marco 14 36 ecco che cosa abbiamo qui che quando Galati e Romani riprendono la parola abbà padre e da una parte confermano l'abbà di Gesù ma San Paolo lo riprende applicandolo a noi cristiani questa paternità questa profondità inaudita di Dio come padre costitutivamente padre questa è aperta a noi da Gesù ricordiamo per esempio il Vangelo di Giovanni che finisce Gesù risorto appare la maddalena che si inchina ai suoi piedi si prostra davanti a lui non mi trattenere ma va ad annunciare ai miei fratelli e ai miei discepoli salgo al padre mio e padre vostro Dio mio e Dio vostro nel Vangelo di Giovanni in cui compare abbondantissimamente l'espressione padre mio qui è l'unica volta in cui Dio dice Gesù dice padre vostro riferito a Dio padre è un'espressione che compare polemicamente contro i farisei dicendo il vostro padre è il diavolo non è il padre il mio padre ma dopo la risurrezione dice ai discepoli padre mio e padre vostro invece il Vangelo di Matteo molte volte e meno negli altri sinottici Gesù già parla ai discepoli lungo la sua vita dicendo il padre vostro che è nei cieli nel padre nostro per esempio pregate padre nostro sono tante volte soprattutto il Vangelo di Matteo lo trovate ma il punto qui è che questa paternità rivelata nella sua pienezza in Gesù è una paternità annunciata a noi ed ecco qui passiamo ecco la seconda parte dell'incontro quel mistero dell'uomo rivelato nella rivelazione del padre ecco come Dio padre è buona notizia per noi perché conoscere il padre è un annuncio che è kerigma per noi leggiamo un brano ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello spirito che dà vita in Cristo Gesù si è liberato dalla legge del peccato e della morte e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba padre lo spirito stesso insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio coeredi di Cristo se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria ecco qui ci viene questo brano sarebbe da leggere anche tutto il capitolo però abbiamo scelto qualche pezzo ci viene presentato questo passaggio dal vivere secondo la legge la carne e vivere nello spirito lo spirito di figli adottivi nel quale gridiamo Abba padre ecco questa relazione che Gesù aveva col padre che è comunicata a noi che ci rende coeredi di eredi di Dio coeredi di Cristo allora vorremmo a partire da questo brano approfondire diversi punti della rilevanza del padre per di Dio padre per noi cinque punti questa paternità fonda la bontà di tutta la realtà di tutto il mondo la storia poi conferisce identità all'uomo terzo libera la nostra obbedienza scusate quarto dona gratitudine e gratuità e quinto dona la luce pasquale ecco all'uomo di cui si parlava alla fine di questo brano dice che diventiamo eredi di Dio coeredi di Cristo se prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria ecco qui la logica pasquale la luce pasquale sulla nostra esistenza adesso un punto alla volta cerchiamo di fare un piccolo approfondimento quindi il primo punto è che la paternità di Dio fonda sancisce la bontà di tutto il creato ci fa vedere ecco l'amore di Cristo rivela la bontà del padre rivela la bontà quindi di tutta la realtà ecco perché questo è importante per l'uomo ecco c'è sempre un rapporto tra il particolare e l'universale noi scegliamo tante cose no? facciamo conosciamo scegliamo tante piccole scelte il singolo giorno le piccole cose della nostra vita che però sono sempre interpretate hanno come loro contesto la visione d'insieme della realtà ora la situazione del peccato dell'uomo nel peccato separato da Dio sotto la morte pone tutta la realtà sotto l'ombra per cui tutto può essere bello ma alla fine muori alla fine tutto finisce tutto passa tutte le iniziative per quanto buone servono a niente tutto finisce anche se non ce lo diciamo nessuno lo dice no? non ci vogliamo pensare meglio non pensare alla morte tanta alienazione dalla morte rimozione della morte in tanti modi perché è un'ombra oscura che spegne tutto meglio non pensarci quindi o allenarci o cercare in qualche modo di combattere ma tutto è un po' fallimentare ecco la realtà che è bella no? è bella la realtà ma anche segnata dal male rischia di cioè di per sé pone il tutto in dubbio pone tutto sotto un limite che è invalicabile definitivo e con la paternità l'annuncio di Dio come padre garantisce invece la bontà di tutto il creato ci dà come riferimento originario l'ancora diciamo da cui tutto dipende punto di riferimento saldo la bontà di Cristo rivela il padre e il suo amore dice Gaudium et Spes 22 quindi questa dimensione amorevole della paternità che non solo l'onnipotenza ma l'amore del padre con già sperimentato dal popolo di Israele e poi comportato a compimento nel risplende nella croce di Cristo quindi questo permette di dare credito alla realtà per dirlo molto banalmente essere ottimisti davanti alla realtà anche se ci sono un sacco di problemi un sacco di croci andrà peggio se leggete il catechismo della chiesa cattolica su come Dio porterà la salvezza fa un po' paura fa un po' paura parla proprio che la chiesa non si arriverà tramite un trionfo della chiesa ma tramite una prova a cui parteciperemo alla morte di Cristo come chiesa ma non è ma il padre ci dà una luce positiva su tutta la realtà anche se va male vi leggo un brano che mi sembra rappresentare questa luce dice il libro della sapienza hai compassione di tutti perché tutto puoi chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato se avessi odiato qualche cosa non l'avresti neppure formata come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta come potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue signore amante della vita ecco vedi anche se c'è il male nel mondo la pazienza di Dio pensate al parabolo del grano e la zizzana Dio pazienta in vista del pentimento della conversione per trarre un bene maggiore anche dal male quindi il padre fonda la bontà della realtà l'amore del padre regge le cose secondo seconda riflessione sul padre come fonte di identità per l'uomo ecco stiamo procedendo dal generale al particolare fino alla concretezza più pratica della vita nel quinto punto allora quindi siamo passati adesso all'identità del singolo ecco già nell'esperienza umana riconosciamo il ruolo fondamentale del padre per l'identità di un bambino se il ruolo della madre è più immediato e quasi scontato per la vicinanza anche fisica tra figlio e madre prima nel grembo poi nell'allattamento per la tenerezza proprio della maternità ecco c'è un rapporto più immediato con il con la madre il padre è un po' il primo estraneo con cui il figlio si confronta e la conferma del padre è è un un tassello insostituibile nel costituirsi di un'identità certa di sé sicura di sé nella persona il rifiuto del padre ci lascia in un stato di orfananza dice il papa no? una situazione esistenziale in cui verte anche gran parte della nostra della società di oggi una mancanza del padre che conferma che ti riconosce che dice sì tu sei mio figlio che si confronta con te che dall'esterno ti conferma bellissima in questo senso la parola del salmo 2 tu sei mio figlio oggi ti ho generato che nel nuovo testamento appare nel libro dei salmi è una profezia regale ma viene applicata a Gesù non solo a Gesù che entra nel mondo la lettera primo capitolo della lettera agli ebrei quindi l'incarnazione e l'incarnazione c'è la paternità di Dio padre nei confronti di Cristo che si del verbo che si incarna e lui nell'incarnazione compie questa parola tu sei mio figlio oggi ti ho generato ma questa parola la ritroviamo applicata a Cristo nel battesimo quando questo è il mio figlio prediletto è un richiamo di questa conferma efficace non è solo dichiarativa costata che è figlio ma conferma la figliolanza tu sei mio figlio confermo di essere tuo padre ti accetto ti prendi ti genero oggi ti ho generato continuo a generarti e allora iniziamo a capire perché viene applicata anche alla risurrezione nel Kerigma di Atti 13 San Pietro applica a Cristo risorto mio figlio sei tu oggi ti ho generato al momento della risurrezione in cui la paternità di Dio si riconferma pienamente risorgendo Gesù dai morti dandogli l'essere come sempre il padre dà di essere al figlio eternamente il padre fa essere il figlio e il figlio riceve l'essere dal padre Gesù vive questo nella sua vita il padre lo conferma conferma la sua figliolanza noi parliamo di questo anche nella confermazione la cresima che è una conferma della parola del battesimo tu sei mio figlio che Dio pronuncia su di noi non solo quando nasciamo nel nostro concepimento nel battesimo nella confermazione e quando risorgeremo conferma questa parola tu sei mio figlio allora dire questa parola vivere in questa parola imparare a vivere questa parola ci dà la nostra identità abbiamo spiegato come Gesù rivela un senso inaudito della paternità del padre Dio è costitutivamente padre questo significa che anche noi siamo costitutivamente figli di Dio siamo costituiti da questa vocazione rivelare il padre rivela di audium et spes 22 la nostra vocazione vocazione eterna con il quale Dio ha creato il mondo in vista della nostra figliolanza in Cristo per mezzo di Cristo uniti al figlio eterno e noi siamo chiamati quindi a trovare la nostra identità vivendo in questa figliolanza in cui Dio ci conferma come figli io sono tuo padre lui non ci abbandona non ci come si dice disereda non ci discute adesso l'italiano è nostro padre e in questo troviamo la nostra identità e in qualche modo poi questa figliolanza ritrovata dando verità all'uomo che costitutivamente figlio chiamato a essere figlio di Dio che poi si compie attraverso la vita cristiana uniti a Cristo sempre più uniti a Cristo fino a essere uniti nella morte e nella risurrezione ecco questo dà anche senso al creato se Dio è costitutivamente padre tutto questo tutto ciò che fa è segnato dal suo essere padre ogni sua opera porta l'impronta della sua paternità della figliolanza e quindi tutta la creazione attende la figliolanza dell'uomo dice così infatti San Paolo dice l'ardente aspettativa della creazione protesa verso la rivelazione dei figli di Dio la creazione infatti è stata sottoposta alla caducità non per sua volontà ma per volontà di colui che l'ha sottoposta nella speranza che anche la stessa creazione sia liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi non solo ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli la redenzione del nostro corpo ecco dice altrove San Paolo noi già siamo figli di Dio ma questo si compirà quando lo vedremo faccia a faccia che c'è una crescita in questa figliolanza e la nostra figliolanza la nostra identità è il senso di tutta la realtà quindi quando noi viviamo da figli di Dio questa figliolanza illumina la realtà dà senso alle cose al mondo tutta la creazione geme e soffre attende questa nostra vocazione che noi la scopriamo e viviamo in questa identità pensate quando non abbiamo il padre lo sperimentiamo anche quando muore il padre quando muore il padre ti senti un po' orfano ti senti sperduto nel mondo dice adesso anche quando io ho il mio padre che è lontano non abita in un altro paese sta lontano eppure c'è c'è lo sento che c'è so che è vivo mio padre a volte penso quando morirà quando morirà non è che mi aiuta non è che lo sento lo chiamo ma c'è allora pensate che è importante sapere che abbiamo un padre che quel padre c'è fa differenza e fa tutta la differenza nella nostra identità non siamo soli nell'universo frutti del caso ma siamo chiamati per nome e coeletti scelti terzo punto questa paternità libera l'obbedienza lo cerco di spiegare questa cosa che non è facilissima noi rifugiamo l'obbedienza ci sta antipatica l'obbedienza non vogliamo essere sottoposti agli altri perché viviamo un'obbedienza di schiavitù la paternità quando appare dio padre trasfigura l'obbedienza non è l'obbedienza degli schiavi ma è l'obbedienza filiale che è libertà libera l'obbedienza perché rifiutiamo l'obbedienza in fondo perché non vogliamo essere sottomessi perché pensiamo che essere sottomessi è è un male rifiutiamo in questo la forma d'essere filiale il figlio riceve l'essere ha un essere che dipende da dipende dal padre ed è costitutivamente sottomesso per l'essere che gli viene dato sempre gli viene dato e noi questo lo rifiutiamo la mancanza di obbedienza il rifiuto dell'obbedienza quell'antipatia che abbiamo dentro di noi è il rifiuto della paternità il rifiuto della vocazione filiale è un cercare la divinizzazione in forma non filiale in forma autonoma ecco se uno si potrebbe adesso sarebbe una parentesi ma il peccato originale si può leggere in questa chiave ecco il genesi 3 perché Dio ha creato l'uomo per la divinizzazione e il serpente tenta Adamo e Deva dicendogli sarete come dei conoscendo il bene e il male e Adamo e Deva cercano di usurpare la natura divina senza riceverla da figli ma prendendola rubandola mentre il figlio Gesù che era Dio non considerò un tesoro geloso qualcosa da la sua guaglianza con Dio ma spogliò se stesso ecco questa è la contrapposizione il nostro problema nella ad obbedire è radicato nel problema della paternità e la figliolanza quindi quando si rivela la paternità che Dio è padre Cristo rivela il padre e il suo amore questo apre a noi la beatitudine dell'obbedienza della figliolanza di una vita ricevuta che non è un limite è la fonte della vita ecco il nostro dominio sulla realtà è un dominio subordinato Dio ha costituito l'uomo signore del mondo ma questa signoria non è assoluta è una signoria sottoposta a quella di Dio questo è il senso del comandamento in Genesi 3 che preserva il dominio dell'uomo da essere staccato dalla signoria di Dio l'uomo si mantiene signore del creato nella misura in cui riconosce di avere un signore Dio questa verità risplende in Cristo Gesù Cristo che è obbediente al Padre fino alla morte di croce è costituito è risuscitato dai morti è costituito signore Cristo risorto è il signore del cielo e della terra lui ha la signoria quel dominio che Dio aveva dato ad Adamo ed Eva è compiuto in Gesù Signore ed è un dominio obbediente l'obbedienza ci mantiene nella nostra dignità nella nostra regalità è beatifica l'obbedienza ma quando siamo nel peccato non lo capiamo questo la rifiutiamo ci sembra contro la signoria che Dio ci dà invece è proprio il contrario questo risplende in Cristo e Gesù quando avrà ricevuto c'è la lettera ai Corinzi che Dio sottometterà tutto sui piedi l'ultimo non amico sarà la morte e infine il figlio consegnerà il regno al Padre affinché Dio sia tutto in tutti vedete questa l'economia di Dio dove c'è questa in Cristo sottomesso al Padre ecco annunciando il Padre il suo amore ci riapre con l'obbedienza filiale la sua beatitudine possiamo pensare in questo ai figli del Padre misericordioso adesso non lo leggo così però il problema lì è proprio il Padre che gli sembra un limite non entrano in questa figliolanza beatifica ricevere dal Padre stare sotto il dominio del Padre non li non gli limita noi viviamo invece secondo la carne o secondo la legge come questi due figli quello che scappa per la carne quello che invece in casa schiavo la legge e nessuno accoglie questa l'obbedienza ricevere la vita dal Padre come qualcosa di positivo di beatifico beatificante quarto punto la paternità che dona gratitudine e gratuità non solo se il precedente punto ci collega all'onni accettare l'onnipotenza di Dio il suo dominio questo è accettare il suo amore è commesso qui una contrapposizione su questa slide tra legge e grazia noi tendiamo a cadere sempre sotto la legge è proprio come una forza di gravità che ci portiamo dentro a causa della ferita del peccato originale noi che cadiamo sotto la legge la legge è segnata da doveri devo fare questo mi devi fare questo mi spetta questo non è giusto ti do questo però tu in cambio mi do rapporti commerciali io ti do in cambio segnati dalla paura dalla colpa moralismo noi cadiamo in questo anche i rapporti amorevoli facilmente decadono pensate quando non so nell'amore tra marito e moglie uno inizia a dire eh ma non è giusto io faccio sempre questo ma iniziamo a fare i calcoli a tenere i conti si è decaduti dalla sono due livelli ben distinti non è una differenza di 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 grazie è proprio qualitativamente diverso vivere nella legge o nella grazia la legge è un modo di vivere meno peggio della carne quando ognuno fa quello che vuole seguendo le proprie passioni ammazzi chi vuoi rubi chi vuoi fa come ti pare si salvi chi può la legge già pone un argine a questo no? stiamo cercando un po' di equilibrio ognuno deve rispettare l'altro la mia libertà finisce dove inizia la tua con tutte queste cose qua eh questo modo di vivere per noi diciamo è il miglior compromesso possibile il nostro default la grazia è proprio di aprire il cielo è un'altra cosa è la gratitudine vivere non nel dovere ma nel dono a cui si risponde nella gratitudine esempio di questo l'abbiamo con i figli no? quando tu hai un bambino e gli cambi pannolini e ti svegli la notte e gli paghi gli studi così non è che poi ti presenti col conto qualcuno lo fa forse qualcuno lo fa per questa perché c'è sempre questa tendenza a cadere nella legge perché poi gli rinfacci eh figlio mio quante volte che ti ho ti rinfacci questa cosa quello è decadere dalla grazia ha altre logiche la grazia ha un'altra logica che è vita che dà vita eterna e la paternità di Dio immette in questa nella logica della grazia il padre costitutivamente padre come nome proprio padre continuamente dona se stesso senza riserve senza tenere niente indietro senza tenerci i conti si dona a noi non ci tratta secondo le nostre colpe ecco riversa grazia su grazia ecco questo la scoperta del padre ci rompe la prigione del moralismo riaprendo il cielo è un'esperienza che noi facciamo tramite il perdono di Gesù Cristo ecco quindi questa è la rilevanza del padre che ci riapre questa sfera della vita della vita umana cristiana della vita divina che è la gratuità il perdono amore misericordia ecco e l'ultimo punto la luce pasquale in cui ci immette la paternità di Dio diceva la fine del brano che abbiamo letto voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura quella schiavitù della legge ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi per mezzo del quale gridiamo a papà lo spirito stesso insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio eredi di Cristo se davvero prendiamo parte le sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria ecco noi nel mondo e qui vediamo un poco come la paternità di Dio incide poi nella concretezza della nostra vita noi ci troviamo in un mondo che è molto buono che canta nella sua bellezza nella sua grandezza canta la grandezza e la bontà la bellezza del creatore dice il libro di Giobbe gli ultimi capitoli ecco dice il libro della sapienza ecco che il mondo ci porta la bontà e l'onnipotenza di Dio ma il male nel mondo contraddice questo e di e questo diventa la morte no? contraddice Dio onnipotente e buono e diventa poi il luogo dove le menzogne e demonia che hanno trovano spazio e le fanno leva no? la paternità apre il modo di vivere la realtà segnata dal male permettendo alla bontà onnipotente di Dio di di vincere il male col bene e questo risplende in Cristo ecco Cristo per obbedienza al padre entra nella croce lui non non capiva cioè quella preghiera del Getsemane molto Cristo ha dovuto fare un salto nella fede andare oltre passare oltre fidarsi del padre per entrare nella croce ma la sua fede nel padre conoscere l'amore del padre questa piena fede in lui gli permette di entrare nella sofferenza e in questo modo il male è vinto ecco quindi anche noi è proprio attraverso l'esperienza del padre del suo amore che possiamo entrare nella croce seguire le orme di Cristo e fare Pasqua passare oltre ecco su questo con una parentesi sulla il padre è sempre una figura trascendente mentre la madre è più immanente anche antropologicamente Ratzinger nel libro su Gesù di Nazareth quando commenta il padre nostro dice che nella scrittura sebbene l'amore di Dio sia tenero e materno descritto come materno il titolo è padre e non madre il titolo è padre proprio per questa trascendenza di Dio che il padre ci porta oltre la madre terra no? è qualcosa di intimo Dio non è nei nostri schemi Dio ci manda il suo figlio Dio si è unito a noi ci è dato tutto se stesso ma il padre è oltre e il rapporto col padre ci fa fare Pasqua passare sempre oltre eternamente e questo permette di vivere anche nel mondo partecipando alle sofferenze di Cristo per poi partecipare alla sua gloria tramite perché è il padre che risorge Cristo dalla morte va bene ho finito chiedo scusa se sono stato lungo e un poco confuso forse ci saranno pochi non c'è tantissimo tempo per le domande vediamo quello che si può fare però avremo altri incontri grazie siccome sono sul sulla chat le domande devo uscire dalle slide mi sembra domanda tecnica puoi anche aprire la chat la posso finire con le slide ah ok ecco sono finito la trovi allora vediamo se c'è qualche domanda dopo questo vi ho forse rintontito allora abbiamo avuto un sacco di materiale quindi non vi preoccupate se se anche non diciamo è chiaro che uno non magari non non si ricorda tutto di quello che è stato detto così però è più importante concentrarvi su ciò che vi ha colpito su ciò che vi è rimasto invece in mente quindi per le domande ecco se volete scrivere in chat qualche cosa potete liberamente qualcosa su Dio Padre avete visto quanto è fondamentale questo questo tema per tutti noi allora ehm allora vedo le queste domande una Dio è anche madre ehm sì diciamo un po' ho risposto a questo ehm rimando appunto non sapevo che veniva questa domanda ma un po' me l'aspettavo un po' me l'aspettavo eh però ecco Giovanni Paolo I fece questa usò questo titolo eh in un'udienza nell'aula Paolo VI nel suo breve breve pontificato però fece questa questa dichiarazione Dio è anche madre no? è bellissimo però è importante capire perché la parola di Dio è perfetta no? se ehm se si usa il padre piuttosto che madre c'ha un senso no? e una delle decodifiche più sensate che ho trovato è questa appunto di Ratzinger nel libro Gesù di Nazareth volume primo volume uscito commento al padre nostro e su questo aggiungo anche una cosa che il catechismo della chiesa cattolica dice che Dio non è maschile e femminile no? queste categorie del maschile e femminile bisognerebbe capirle teologicamente perché Dio non ha corpo che senso perché Dio ha preso ha creato il mondo corporeo no? il mondo materiale e perché Gesù si è fatto uomo maschio il mondo materiale ha il suo senso teologico non tanto per ciò che riguarda Dio nella sua vita interna ma il senso della materialità e quindi anche della mascolinità e della femminilità è per è per unirci a Dio nella scrittura Dio è sposo senza eccezione materno sì ma mai sposa Dio è sposo Cristo è sposo non c'è un'eccezione questo è significativo e l'umanità è sposa come a dire che il registro della mascolinità e femminilità ha il suo senso più profondo teologico deve essere il luogo in cui noi ci uniamo sponsalmente a Dio è il luogo dell'incontro tra l'umanità e Dio nel rapporto sponsale tra la Chiesa e Cristo lo che diventano in un solo corpo quindi questo mettere le categorie maschile e femminile in Dio in se stesso è fuori della logica è fuori logica il maschile e femminile riguarda il rapporto tra Dio e l'uomo e il suo senso è che Dio è maschile e l'uomo è femminile per ragioni che adesso non è tempo di approfondire sono temi approfonditi molto da Giovanni Paolo II soprattutto per riguardare familiari consorzio lettera alle donne poi vediamo altre cose riferimento di Genesi sulla libera obbedienza di Adamo ed Eva guarda le riflessioni che vi ho dato su questo la custodia che il comandamento custodiva l'uomo nell'obbedienza a Dio custodiva la libertà quindi anche dell'uomo e il suo dominio sul creato ecco questo è ispirato al commento a Genesi 3 di Santi Reneo che si trova nella Demonstrazio capitolo 11 dimostrazione della predicazione apostolica quindi qualcuno chiedeva riferimento non vedo altre domande vedo alcuni commenti su sulle cose fatte padre nome proprio menzionato da più persone fidarsi del padre vuol dire accettare tutte le nostre sofferenze e capire che la sofferenza ci apre ancora di più il cuore perché ti fa scoprire quanta bellezza abbiamo intorno sì ecco chiaramente tutta la questione del male meriterebbe una riflessione a parte magari ci tornerò la prossima volta quando parliamo di Cristo perché lì ci dovremmo proprio affrontare anche il mistero della croce in maniera più diretta qui abbiamo appena accennato Patrizio chiede figli adottivi di Dio ma coeredi di Cristo oppure ecoeredi di Cristo e le due cose eredi di Dio e coeredi di Cristo si sono messi in apposizione tra loro siamo eredi di Dio in quanto coeredi con Cristo coeredi di Cristo non so non vedo altre domande Andrea grazie allora Don Davide ci diamo appuntamento a giovedì prossimo e concludiamo il nostro incontro invocando proprio il Padre preghiamo insieme il Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal mare Amen ecco allora ci salutiamo ancora grazie per la partecipazione grazie Don Davide e ci rincontriamo giovedì prossimo buona serata a tutti ciao a tutti a presto Davide sta dicendo qualcosa mi sono accorto adesso di aver fatto un errore nel riferimento che ho dato di Santi Reneo dimostrazione della predicazione apostolica il brano più più rilevante a quello che ho detto era il capitolo 33 non l'11 grazie buonanotte a tutti buona serata buonanotte va bene vogliamo rimaniamo con voi dell'ufficio per vedere per le prossime volte qualcosa scambiare due parole aspettiamo allora un pochino buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci eccoci allora forse un po' lungo bene molto bene mi pare sì molto piacevole qualche forse alla fine c'era se avessimo dato più tempo ci sarebbe stata qualche altra domanda secondo me però tanto ci abbiamo anche le prossime volte quindi magari tornano sul tema non mi sembra assolutamente un problema bello ho visto tante reazioni a padre come nome proprio che è che è che è